Ecco che è partita la finale delle linee femmine, vediamo un po' come si adopereranno sul cambio a metà pista per poi buttarsi sull'ultima parte di gara e vedere chi sarà campione regionale della Big Print, qui non c'è tempo, qui il primo che arriva è campione regionale. L'avete già vincita, la squadra numero 34, Catu, campione regionale, brava!